Il Paradiso delle Signore Episodi 15 a 16 e 12, all'oscuro della missiva di Ludovica. Si profilano dei giorni a dir poco intensi quelli del 15 e 16 dicembre 2022 per quanto riguarda il Paradiso delle Signore. Prima di scoprire che cosa accadrà ai personaggi che ambientano questa dei lisopri portiamo che secondo il palinsesto ufficiale della RAI, l'orario della messa in onda resterà il medesimo di sempre. Ossia quello delle 16, 05. I problemi non mancheranno, in modo particolare per Maria e Stefania. La prima dovrà vedersela con un incidente lavorativo che finirà per allertare persino Vito Lamantia. La figlia di Ezio e Gloria, invece, avrà dei ripensamenti sul trasferimento in America e questo potrebbe stravolgerle il futuro. Nel frattempo Adelaide deciderà di reagire alle sue pene d'amore, dovute al fidanzamento di Umberto e Flora. Una volta giunta al circolo, la contessa avrà tra le mani un'inattesa lettera che deciderà di tenere all'oscuro da Marcello. Secondo le trame del Paradiso delle Signore del 15 dicembre, la crisi continuerà ad alleggiare in casa Colombo e a sentirne maggiormente il peso sarà la giovane Stefania. La quale si confiderà con Irene sul difficile momento che ha investito la sua famiglia. Una crisi che, a quanto pare, potrebbe disincentivare la promessa sposa di Marco di Sant'Erasmo a lasciare l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Messi al corrente dei dubbi ettanaglianti di Stefania, sia Vittorio Conti e Matilde Frigerio che Veronica ed Ezio vorranno fare qualcosa per spingere la coppia a partire. Che cosa si inventeranno? Nel frattempo Armando proverà a convincere Clara a partecipare alla gara ciclistica. Nonostante la Venere abbia rifiutato la proposta di Alfredo, Adelaide di Sant'Erasmo, invece, prenderà in pugno la situazione e tornerà al circolo a testa alta. Ma una volta rientrata al circolo, la Contessa riceverà una missiva da parte di Ludovica Brancia che annuncia il suo rientro a Milano. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, dell'ultimo appuntamento settimanale, Rivelano che finalmente Stefania e Marco si decideranno a partire per la lontana America dopo gli iniziali indugi. Ludovica incrocerà a Marcello. Cosa succederà una volta che i due ex amanti si ritroveranno faccia a faccia? Quello che è certo è che Barbieri resterà spiazzato dal mancato avviso di Adelaide circa il ritorno della donna che ama. Spazio anche al lavoro. Al grande magazzino milanese giungeranno i prototipi della nuova collezione. Tuttavia Maria incapperà in un nuovo problema. A quanto pare l'abito che la giovane Puglisi ha realizzato verrà smarrito e Vito proverà a recuperarlo.